Tocca, dai, lo so che vuoi farlo, andiamo, su, adesso, tocca, dai, meglio andare. Con la nuova classe A puoi toccare e parlare per cambiare tutto quello che vuoi. Blu, giallo, verde, rosso, blu, rosso, ok, ok, abbiamo capito. Nuova classe A con Mercedes me, just like you. Scoprila il 12 e 13 maggio negli showroom Mercedes-Benz.